Buon giorno dalla costa d'Amalfi, buon risveglio in questo meraviglioso giorno dalla costa d'Amalfi, sereno, un giorno in cui si intrecciano voli di gabbiani, onde del mare carezzevoli, serenità che comunque giorno per giorno cresce in ciascuno di noi. Perché al di là di numeri ciò che conta e ciò che assistiamo è una ripresa, un migliorare delle condizioni e questo grazie a tutti. Grazie a quanti sono impegnati al lavoro, grazie ai colleghi, grazie a quanti con amorevole assistenza sono vicini ai loro anziani. Ancora a tutti un buongiorno dalla costa d'Amalfi, da minori questo piccolo orburgo che si sta risvegliando per avviare la sua normale attività.